sono a san carlo appena girato bello lì quel questo posto sopra il roccione cos'è che cazzo quasi grafia sono perso san carlo patatine cesena ha finito io non so dove sono comunque si prosegue di qua un po di sali un po di scendi sali sali scendi mangia bevi e siamo al chilometro 84 è proprio mentre ho finito l'acqua spunta l'oasi o le via cento cento i vazzanicchi per lo spunto saliamo di qua ragazzi un'orca vacchina adesso ogni chilometro pesa devo dire che comincia ad accusare un po di fatichina mazza vacca monte reale almeno reale comincia avere le visioni fatto oica burdelli adesso 90 chilometri e via cento l'ho proprio subita adesso qua senti senti il rumorino rumorino di discesa bellissimo un po di venticello chilometro 90 altra discesa tecnica fatto che essere lucidi sarò lucido abbastanza dopo la goduria via madonna di saiano come c'è la madonna non so perché ma non è di buono spiccio allora la madonna di saiano sta bene l'ho salutata vi aspetta sono al 96esimo chilometro 2887 di dislivello finalmente un po di pianura mamma mia ragazzi sto momento non vedo l'ora di arrivare purtroppo quelli che fanno il pasto a parte avrà finito tutto quegli ingordi cacchio lasciamo calisese ed ecco un bello strappino al chiamato centro 1 dopo aver fatto un po di dicesina visto da godere quell'attimo le ultime sofferenze dai 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 porca vacca basta parte dove sei ebbene sono riuscito anche a perdermi il finale grande comunque bo di raffa sono qua sono solo io e ancora qualcuno ce l'ha e ma aspetta 369 114 chilometri quasi attore papà bia vado a salutare quei ragazzi va e almeno la nostra birra ce la facciamo sì ragazzi grazie grazie a te ci cingi posta qua aspettano aspettano gli ultimi per premiarli insomma lo dicevo dovevo votar dio comunque grandi hobby bike della boss to boss veramente tremenda come sempre grazie alla birra sempre cattivi così e mi raccomando è stato un successione sono tutti vivi penso qualche smarrito quella lo andremo a ritrovare alla prossima